Ciao, sei alla testa di un'organizzazione nel settore carrozzeria? Ascolta bene, perché abbiamo creato per te un video da mangiare con gli occhi. Un tutorial completo che ti permette, da subito, di applicare in totale autonomia il CVR3, la prima pellicola ad acqua che protegge e personalizza la carrozzeria. Come vedi, prepari la superficie, mascheri e procedi come spiegato dettagliatamente nel video tutorial. Lo puoi levigare, stuccare e lucidare per raggiungere i risultati che desideri. È facilmente utilizzabile nella tua officina, perché per applicarlo utilizzi gli strumenti e metodi di ogni giorno. Il monocomponente si spruzza come un normale trasparente e questo crea lo strato protettivo, utile a conservare e personalizzare carrozzerie nuove, preziose e di ogni forma. Puoi proporre un servizio ricercato ed esclusivo tramite un prodotto che unisce la tradizione all'innovazione. Auto, moto, fari, cerchi e cromature, protezione di componenti in carbonio e anche lavorazioni parziali. Siamo convinti che fin qui potresti avere le idee chiare, ma ci sono ancora molte cose da sapere e che puoi scoprire guardando il tutorial gratuito. Dopo la registrazione, ricevi nella casella di posta elettronica le chiavi per accedere alla tua area riservata. Le spiegazioni video sono accessibili quante volte vuoi, perché tu possa utilizzarli in qualsiasi momento per ricordare, approfondire e perfezionare la tecnica e anche per istruire un tuo collaboratore. Ora tocca a te, iscriviti e guarda il video. Solo dopo puoi scegliere spontaneamente quando contattarci per avere il cibo R3 e andare a caccia di nuovi clienti.